Cari disperate e cari disperati, ben ritrovati. Oggi vi sottopongo lo studio di una nuova filastrocca in tedesco che reciterò alla Merkel quando verrà a Roma la prossima volta. Adesso ve la leggo e vediamo di modificarle insieme come ho fatto anche in passato con i decreti. Allora abbiamo a insvai poliziai uno o due polizie che mando a casa chi non rispetta la regola del decreto quello delle sei persone e lo stop delle feste private. Poi abbiamo dry fear grenadier cioè tre e quattro carabinieri e fa scopa con polizia ma io sostituisco tre e quattro dry fear grenadier con dry fear anglas beer perché la birra è sempre buona. Stamattina mi sono fatto anche un bicchiere a digiuno di vino di Sangiovese ero indeciso fra il Sangiovese e il Corvo Rosso di Salapagutra alla fine ho optato per il Sangiovese ecco perché ho la voce un po' pastosa. Poi abbiamo fiufs ex e alte ex 5-6 vecchia strega beh in questo caso ci siamo la vecchia strega e il liquore che conoscevo fin da bambino in Puglia ne bevevamo ne bevevamo parecchia di vecchia strega poi abbiamo si penacht gutteracht e su questo niente da dire 7-8 o buonanotte dopo una bella bevuta ci vuole una bella dormita in Puglia